Abbiamo la possibilità di avere delle diagnosi veramente immediate per quanto riguarda questo tipo di patologia molto complessa e soprattutto mandate rapidamente a tutti gli operatori coinvolti per la gestione di questo tipo di patologia. Questa è la cosa più importante perché tutti gli operatori hanno la possibilità di vedere sul cellulare ciò che è successo, la diagnosi di questo patente e quindi prendere i necessari provvedimenti nei tempi più veloci possibile.